Bruno Capanna, fra i tifosi, oggi pomeriggio, sentiamolo. Pino Rigoli non è più l'allenatore delle Catania, fatale per lui la sconfitta di ieri contro l'Akragas. Sull'argomento abbiamo ascoltato il parere dei tifosi. Hanno perso del tempo, tempo inutile, perché molte partite sicuramente, migliori di rigole, chi viene farà. Insomma il bilancio non l'ha soddisfatta di questo Catania? Completamente, cioè il blasone di squadra che abbiamo siamo da primi posti. Cosa può essere accaduto ieri ad Agrigento? Abbiamo toccato il fondo, ieri ad Agrigento abbiamo toccato il fondo. Ci vorrebbe un allonatore con una certa esperienza. Insomma la città è una squadra come Catania, non è che si può permettere di perdere la Agrigento. E poi io lo scassiamo. In generale il cammino l'ha soddisfatta del Catania fino a questo momento? A me il Catania è una squadra mediocre, non ha gioco. Si vede, quella squadra giocava meglio del Catania. Cosa pensa di questo allontanamento di Rigoli? Hanno fatto bene, perché non è all'allenatore di serie C, è di eccellenza l'allenatore, basta. Cos'è che non le è piaciuto in particolare il gioco, è mancato? Cos'è mancato a questo Catania? Intanto gli Tavare e i Pozzobon non possono giocare assieme. Che sono due centri avanti, che sono due attaccanti, perciò non possono giocare assieme. Deve giocare sotto a posto di Tavare se lo Pozzobon. E poi il centrocampo mancava una petina importante, perché il centrocampo, già si è visto con Matera, era a terra. Domenica hanno giocato gli allievi dell'Agagas e abbiamo perso. Hanno trovato il primo capo espiatorio, in pratica, perché è tutto ridicolo. Già ieri si è visto la ridicolaggine di questa squadra. I giocatori, la preparazione atletica, tutto un insieme. Quindi hanno trovato Rigoli, appunto come dicevo poco fa, il capo espiatorio. Ma realmente non è questo il problema. I problemi sono altri che noi non possiamo sapere. Punto. Il bilancio comunque con Rigoli in panchina è tutt'altro che positivo dal suo punto di vista, oppure no? No. Il Catania insieme ad altre due o tre squadre doveva vincere, o meglio, doveva stravincere. Quindi per arrivare nelle prime posizioni. E per poi giocarsi tutto per la prima posizione, per l'accesso diretto. Quindi vederla qui, molti dicono sì, va bene, tanto arriverà ai playoff ugualmente. Non basta. Perdere sei punti con l'Agagas, che non è questo blasone di squadra, mi sembra assurdo. E in molti ricordano anche il fatto che l'Agagas vinse anche all'andato, una zero alla fine. Beh, comunque, Marcello, queste interviste sono la testimonianza, sostanzialmente, dell'ambiente davvero difficile che è Catania. Ma si sa che Catania è difficile, è una piazza esigente, una piazza che viene da otto anni di Serie A. Ma naturalmente in un anno trovarsi Lega Pro non è facile, c'è una nuova generazione di tifosi che non conoscevano neanche la Lega Pro. Quindi è molto difficile, come una nuova generazione pure di giornalisti, di media che scrivono sui social o su quant'altro, che non hanno contezza di quello che è questa categoria, di quello che deve essere. Per questo io dico umiltà. Io sento anche adesso nell'intervista parlare sempre del blasone. Il blasone, purtroppo, bisogna metterlo da parte. In questo momento ci vuole umiltà, umiltà generalizzata. Dopodiché lasciar lavorare serenamente chi è al comando, chi la società ha deciso di incaricare per portare il Catania dove le compete. Il Catania, con il sostegno di questo pubblico, che è eccezionale, sicuramente tornerà ai livelli che le competono. Ma se non si raggiungono questi equilibri sarà sempre tutto molto più difficile. 333-6402-348 per i vostri sms. Questo è il numero dedicato agli sms. L'altro numero che vedete in sovrimpressione è invece quello per intervenire in diretta. Chiudiamo questo ampio capitolo che abbiamo voluto dedicare al Catania. Marginalmente abbiamo parlato anche di Agregas, ma chapeau all'Agregas, ai ragazzi dell'Agregas, all'allenatore dell'Agregas per quello che ha saputo fare non solo ieri un intero campionato. Se l'Agregas si salva quest'anno è davvero un miracolo dettato da una capacità di creare gioco come poche squadre in questa Lega Pro che pure di gioco le fa vedere.